E' successo al termine di una lite tra coniugi per futili motivi. Un uomo assunto atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti della coniuge convivente del figlio minore. Prima gli insulti verbali, poi il passaggio dalle parole e i fatti è stato breve. Una coppia di stranieri non nuova ad analoghe vicende che però non avevano reso necessario l'intervento dei carabinieri. Secondo le ricostruzioni dei militari dell'arma, al termine della lite, la donna per fuggire ai maltrattamenti del coniuge si sarebbe chiusa a chiave assieme al figlio all'interno di una stanza dell'abitazione familiare chiedendo l'intervento dei carabinieri. L'uomo avrebbe anche tentato di abbattere la porta della stanza con spallate, pugni e calci, riuscendoci solo parzialmente. Immediato l'intervento di due pattuglie della compagnia di Valdagno e dei carabinieri di Montecchio Maggiore che lo hanno immobilizzato. Grazie alle dichiarazioni delle vittime i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'intera vicenda al termine della quale l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della coniuge e del figlio minorenne.